Lasciate stare il ventilatore, daie, 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 ci ritroviamo, ci ritroviamo, ci ritroviamo con i primi tre punti portati a casa e si gode tutto così alla perfezione, alla fine clean sheet 1-0 e hai vinto, l'importante è quello Andiamo a parlare un attimo della partita, ok? Roma spreguna, perché secondo me dire, ripeto come ho detto su TikTok, che non è meritata questa vittoria è malafede è assolutamente malafede perché tu vinci se 1-0 con un gol, diciamo, qualche rimpallo, così, un bel tiro da fuori di Cristante però noi alla fine abbiamo avuto la partita, diciamo, in tasca dall'inizio alla fine la serenità non mi ricordo se abbia fatto qualche tiro pericoloso, quindi difesa ad hoc, perfetta soltanto che si contano diversi errori, la squadra deve lavorare per migliorare tutto questo però diciamo che non è che non abbiamo creato le azioni, abbiamo fatto diversi errori davanti alla porta ne conto circa, mi sa, tre di Zaniolo, un palo di Tibala Abram, diciamo, stasera nullo, ha giocato molto molto male e qualche altra azione comunque c'è stata, roba a fare, però lì davanti siamo stati, proprio, abbiamo tirato a cazzo di cane, a tanto a cazzo di cane io diciamo fra quei tre lì davanti, Abram, Zaniolo, di Bala ho visto un Abram, ripeto, che ancora non è in condizione fisica, però ci può stare perché lui, diciamo, di corporatura non è, non è un di Bala che magari può entrare subito in forma è più grosso, ci vuole un po' di più e infatti Mourinho lo toglie, lo toglie presto dalla partita e non mi è piaciuto Abram, mi dispiace, quindi il peggiore lì davanti poi dopo, tra i peggiori, subito dopo Abram, ci metto di Bala ok, mentre Zaniolo è stato il migliore, secondo me, nei tre lì davanti di Bala che comunque ha fatto vedere qualcosa del suo repertorio tra dribbling, passaggi, eccetera, eccetera però lì, ok che hai preso Bala, però potevi essere più cinico, ok mi dispiace che abbia preso Bala, però rimane una prestazione che non è proprio da Di Bala mi aspettavo qualche magia in più, ok, da lui però, ovviamente, la prima partita mi va bene così, ripeto Zaniolo invece, ok, tre errori ma Zaniolo scarica un bolide che se piava qualcuno, ci sfondava la faccia se prendeva una casa, la radiava al suolo fa un tiro di una potenza incredibile che questo è il palo e la palla va qui, esattamente qui quindi sta per fare un grandissimo gol quindi sfortunato in quel caso, fa degli errori ma nei dribbling, quando io su Instagram parlo di un prime e poi prime, ha fatto pulizioni delle stagioni però parlo di un Zaniolo che quest'anno potrebbe fare veramente tanto bene per questo, quando i Lazialetti ridevano del fatto che diciamo Zaniolo diventa forte perché ha perso 7 kg no, Zaniolo diventa forte perché con questi 7 kg da buttato ritorna più agile e l'abbiamo visto stasera perché avrà fatto tipo impazzire i difensori della serenità in alcune situazioni perché non lo prendevano perché poi è pure grosso fisicamente se sta tenendo c'ha la corsa, c'ha la sprinta e quindi molto bene per quello, il migliore ho visto un Pellegrini che diciamo più arretato soffre un pochettino la cosa però ci sa stare, ce lo vedo bene anche in accoppiato con uno più difensivo come Cristando e poi Matic c'è entrato quindi un centrompo così lo vedo molto molto bene Spinazzola ci siamo sta rientrando ormai i dribbling li prova eccetera 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 stasera l'ho visto abbastanza bene fisicamente non mi sembra ancora al top e dall'altra parte Kasdorp diversi errori in fase di impostazione però quello è Kasdorp non lo so, stava per segnare all'ultimo sicuramente difesa i tre centrali si comportano secondo me bene, benissimo non c'erano state poche occasioni per la serenitana forse me ne sembra che sto a dimenticare io qualcosa ma non c'è stato niente Murigno c'è da fare una piccola critica adesso tu hai migliorato parecchio la squadra a livello offensivo mettendo gli innesti di Bala e Guainaldum che poi è entrato dalla panchina è una squadra che è migliorata con già dei tasselli che avevi come Abram, Pellegrini e Zanerolo e Spinazzola che ti comunque che ti parte da dietro roba varia quindi tu c'è una squadra molto offensiva sul 1-0 con la serenitana mi dà fastidio che ti fai a chiudere ancora una volta stesso discorso dell'anno scorso con il rischio che veramente cioè ti basta un colpo di testa sbagliato un rimparlo e roba quelli ti fanno 1-1 e magari lo troppo fanno a 60 settantesimo, ottantesimo e ti fotte ti fotte la partita perché poi lì abbiamo giocato solo di contropiede e non va bene perché tu hai dei giocatori che te la puoi gestire puoi gestire te la benissimo lì davanti senza problemi questa è una critica da fare a Murigno però ha sofferto l'Inter ha sofferto la Fiorentina il Milan comunque ha fatto 2-1-2-2 2-1-2-3 e rumpare poi con cazzo di dice 4-2 ha fatto quindi non è semplicissimo ok la prossima c'èanda la cremonese che non dico che sia semplice perché oggi l'ha dimostrato con la Fiorentina tenendo botta in 10 fino al 90 però è un'occasione per andare a punteggio pieno perché sicuramente e se devi vedere le due rose, sei strafavorito e loro vengono dalla Serie B quindi potresti fare un 2 su 2 il meglio per prepararsi magari per la partita con la Juventus vediamo come arriva perché poi dopo l'impegno con la Cremonese ci sarà la Juventus e poi infine il Monza ripeto, abbiamo occasione di nessuna partita è semplice però di fare un bel bottino in queste prime quattro partite la partita più difficile ovviamente è con la Juve in casa loro non so se ci hai mai vinto, non abbiamo mai vinto in casa loro quindi è un po' difficile però ripetiamo, se quest'anno tu vuoi entrare in Champions perché quello è l'obiettivo della Roma entrare nelle prime quattro, devi vincere devi giocare, la devi giocare con tutte perché se ce la fanno le squadrette piccole fanno ogni tanto dei punti delle vittorie con le big perché non ce la devi fare a te che c'è una bellissima squadra quindi detto questo infine chiudendo, se ti devo fare un migliore migliore in campo peggiore aspetta, passiamo al peggiore forse ho visto male Abram e in difesa mi è piaciuto tanto Mancini stasera pulito nessuna sbavatura neanche il giallo quindi metto loro due anche se ci sono stati magari Cristante potrebbe essere migliore in campo perché ci ha fatto a vincere col suo gol però va bene così va benissimo primi tre punti Dai Roma e qui ci ha fatto a vincere il giallo